Con Emiliano Fratini autore del gol del definitivo 4-1 qui al Bellucci di Agliana sei entrato in una fase delicata con il Grosseto che era in controllo però hai salvato diverse situazioni, hai portato esperienza, geometrie e poi ti sei tolta anche la soddisfazione del gol? Sì, sono molto contento prima di tutto per la prestazione della squadra poi chiaramente anche personale perché era due anni che non segnavo prima dell'infortunio quindi è una doppia gioia oggi Senti Emiliano, un Grosseto a tratti veramente bello e convincente un piccolo break ma ci sta in 90 minuti di fronte ad un avversario mai domo questo va detto, è costato il gol del momentaneo vantaggio ma la squadra ha reagito ha reagito con convinzione e poi direi che è stato decisivo il gol del 2-1 al 48esimo del primo tempo Sì, sicuramente il gol del 2-1 ha dato più fiducia a noi e poi ha tolto fiducia a loro chiaramente perché non è mai facile prendere un gol all'ultimo secondo è stato bravo Matteo che è andato in cielo e anche Riccardo ha messo una gran palla e è andata bene così Credi che questa possa essere una vittoria di quelle, come si dicono, le spartiacque in positivo per il Grosseto un Grosseto che ormai dovrebbe avere acquisito maturità e consapevolezza dei propri mezzi insomma una squadra che è vero costruita per salvarsi ma sta facendo un campionato importante Sì, è una vittoria che sicuramente dà morale perché venire qua a vincere 4-1 non so quante squadre lo possano fare giocando come abbiamo giocato noi oggi quindi sì, bisogna pensare partita dopo partita e solo così vedremo quello che potremo fare Grosseto, ho ritrovato con te uno dei famosi titolari aggiunti mercoledì ci aspetta una partita importante come arrivate mentalmente? Arriviamo con tanta voglia perché è comunque un derby cercheremo già da domani di lavorare subito al meglio di rimettere la testa per mercoledì perché sarà un'altra partita veramente dura Complimenti e ci vediamo mercoledì Va bene, grazie, arrivederci